Oggi andiamo ad ottenere dei subtotali basati sul colore che andiamo a filtrare nella nostra colonna. Vediamo come funziona. Qui ho la mia colonina con i numeri, il titolo, e qui ho il filtro. Per attivare il filtro si va nel menu dati, ordine filtro, e qui c'è il bottoncino filtro, così compare questo. E se andiamo qui abbiamo due modalità di filtrare, uno per numeri e uno per colore. Quindi se attiviamo quello per colore e scegliamo ad esempio il giallo, vediamo che vengono filtrate solo le celle gialle. E di conseguenza sopra la formula si aggiusta e ci dà il subtotale su quel colore che abbiamo filtrato. Come faccio a fare questo tipo di operazione? Niente di più semplice, dobbiamo utilizzare la funzione subtotale, quindi uguale subtotale. Quando noi andiamo all'interno delle parentesi dobbiamo passare due parametri. Il primo parametro è il tipo di calcolo che vogliamo fare, quindi in questo caso voglio fare la somma. Il secondo parametro che vado a dare è l'intervallo che voglio analizzare per eseguire la somma. Il 9 ci fa la somma, il 2 ad esempio ci fa il conteggio.